Bentornati alla rubrica che vi racconta la finanza in parole povere e senza conflitti di interesse, conflitti di interesse che insieme ai consigli interessati sono l'argomento dell'episodio di oggi, infatti troppo spesso gestori, consulenti e promotori si sentono in dovere di effettuare raccomandazioni di acquisto, di vendita talvolta per giustificare il proprio ruolo, il proprio compenso o anche semplicemente perché esiste un sistema di commissioni che non è allineato a questo tipo di... e si finisce per suggerire a risparmiatori delle mosse che non sono convenienti. Vedremo tutto questo dopo la sigla, intanto vi ricordo che questa rubrica conflitti non ne ha perché non vende nulla, si sviluppa in podcast, newsletter e video e quindi vediamo in dettaglio di cosa parliamo con questi consigli interessati dopo la sigla. La finanza in soldoni è un progetto che promuove la gestione razionale della finanza personale attraverso podcast, newsletter, video sul canale YouTube di Massimo Famularo, oltre alla rubrica Money Flash per l'Associazione Liberi Oltre Illusioni. Potete sostenere il progetto anche iscrivendovi a Supporters Club, che ha un costo mensile di 3 euro, quindi meno di 50 centesimi a podcast e consente l'accesso ad episodi del post che è realizzati per i membri del club e non accessibili agli altri, nei quali condivido i miei investimenti personali. Oggi parliamo allora del consiglio che non conviene, scritto tra virgolette. Che si tratti di un promotore o di un bancario, con i promotori e i bancari che guadagnano delle commissioni se vogliamo un po' nascoste, perché sono collegate ai prodotti che vi suggeriscono di acquistare. Oppure anche di un consulente indipendente che invece vi dà una parcella trasparenza per i servizi resi, ma che difficilmente vi potrà dire che non vi conviene fare qualcosa. Dunque il consiglio che non conviene e che difficilmente vi daranno entrambe le cose di dire è proprio quello di non fare nulla. Perché questo? Perché chiaramente un consulente che non consiglia è un po' una contraddizione in termini. Se si tratta di un venditore che è pagato per provvigioni, guadagna in base alle cose che vi vende, quindi vi suggerirà di vendere, quindi difficilmente o mai vi suggerirà di stare fermi. Invece il consulente che magari ha un approccio più indipendente e quindi non prende commissioni in base ai prodotti che vende e anche lì deve però dare l'idea che i suoi consigli abbiano un valore aggiunto. Quindi non vi dirà mai di stare fermi, che è un po' l'argomento della puntata di oggi. Esiste allora un incentivo strutturale nell'industria dei servizi finanziari a suggerire operazioni di investimento e disinvestimento ai risparmiatori anche se queste non rientrano strettamente nell'interesse del cliente e nei casi limite, ne abbiamo parlato purtroppo anche in questa rubrica, qualche volta addirittura contrastano con le sue esigenze e preferenze. Ma perché stare fermi o non agire dovrebbe essere una scelta conveniente? Il punto di partenza è quella riflessione che vi faccio sempre e che vi dice che non è possibile prevedere con precisione l'andamento dei mercati finanziari e quindi cercare di comprare prima che salgano per guadagnare e soprattutto cercare di vendere prima che scendano è una strategia molto rischiosa e quasi sempre controproducente. A questo proposito l'agenzia di rating di BRS Morningstar misura periodicamente la perdita registrata da chi si muove troppo, fa troppi movimenti di ingresso e di uscita, in una serie di report che vengono denominati Mind Gap, che sostanzialmente significa letteralmente attenti al gradino, ed inque il cattivo tempismo di chi entra e esce con frequenza eccessiva, porta l'investitore individuale a registrare un rendimento inferiore rispetto a quello degli stessi prodotti in cui investe. Sembra una contraddizione ma proviamo a spiegarla con un esempio tratto da un articolo proprio di DBRS Morningstar. Ad esempio l'ETF Ischess Global Clean Energy ha raddoppiato le dimensioni del 2020 e ha avuto un rendimento del 140% in dollari. Poi, subito dopo, ha avuto due anni negativi e i flussi si sono dissipati. Se guardiamo alla performance complessiva nel triennio 2018-2023, vedrete con un interessante 17% anno, ma l'investor return, cioè quanto ha guadagnato chi ha, tenendo conto degli acquisti e delle vendite, addirittura ha un rendimento negativo per il 3% nello stesso periodo. Con le parole di Mattias Mottola, responsabile manager and research di Morningstar, vediamo che la maggior parte degli investitori è entrata nel fondo appena dopo le sue brillanti performance e poco prima che iniziasse la fase di ribasso. Quindi si tratta di, con riferimento insomma agli stessi prodotti di risparmio gestito, l'analisi dei volumi ed ingresso di uscito mostra che i risparmiatori tendono a entrare quando i prezzi salgono e a uscire quando quelli scendono, realizzando quindi il peggiore dei casi possibili e soprattutto corrinseguendo un rendimento più basso, attenzione, rispetto a chi acquista lo stesso prodotto e lo tiene fermo. Per riassumere quanto abbiamo detto finora, comprare e vendere troppo spesso non conviene e porta a guadagnare di meno. Molti venditori di prodotti finanziari hanno un incentivo a farci investire e disinvestire in potrotti che potrebbero non convenirci. Molti consulenti e gestori, per giustificare il proprio compenso, hanno un incentivo a investire con una frequenza maggiore rispetto a quella che in realtà converrebbe. Allora, dobbiamo disfidare i ridotti? Naturalmente potrebbero esserci delle eccessioni. Ad esempio, se il nostro interlocutore è un dipendente della banca e non ci sono incentivi distorsivi, potrebbe consigliarci in modo opportuno perché il suo guadagno non dipende dai contotti che ci vende. Purtroppo questa è l'eccezione e non la regola. Un altro esempio è il consulente indipendente che viene invece pagato in forma fissa, anche qui non proporzionale alla dimensione della performance. Anche qui i conflitti potrebbero essere più limitati. Prima di proseguire vi faccio una comunicazione di servizio il prossimo 24 maggio a Rosa Grand Hotel di Milano. Ci sarà un evento gratuito che si chiama Rankia Market Experience. Io sarò presente in persona, per cui se vi va potete venire e ci facciamo un saluto. Per iscrivervi all'evento che è gratuito ma richiede la protazione obbligatoria, potete usare il mio link di presentazione che trovate nella descrizione del podcast perché io sono media partner. Allora dicevamo, ma come facciamo a capire se chi ci consiglia fa o meno i nostri interessi? Esistono pochi elementi molto semplici da verificare. Il primo e più rilevante è che, prima di suggerirci l'acquisto di qualche prodotto, venga effettuata una valutazione nella nostra proposizione individuale delle nostre esigenze e preferenze in termini di rischio. Chi ci propone di comprare qualcosa senza verificare se il prodotto è adatto a noi e senza spiegarci perché il prodotto dovrebbe essere adatto a noi, ha un'elevata probabilità di perseguire degli interessi diversi dai nostri. Il secondo elemento, sempre molto semplice, riguarda la dichiarata volontà di prepararsi ad andamenti attesi dei mercati, sia rialzo che ribasso. Troppo spesso chi vuole proteggerci dai ribassi o farci approfittare degli alzi, finisce per farci comprare e vendere nel momento sbagliato. Allora come facciamo a difenderci dai consigli interessati? Seguendo poche semplici regole di comportamento. Le prime due le abbiamo appena dette, cioè verifichiamo che i suggerimenti siano per noi, non esistono regole per tutti, quindi valutazione della posizione individuale, conosci te stesso, come c'era scritto sull'oracolo di Defini, il monito antico, e rifiuto di inseguire i mercati finanziari, insieme a comprare al minimo e vendere al massimo è una cosa che non riesce a nessuno e ci fa perdere tempo. Una terza semplice regola da guardare per valutare la convenienza, diciamo i conflitti di interesse, riguarda la struttura delle commissioni e l'allineamento in generale degli interessi. Se ci propongono una commissione di ingresso, che io reputo essere l'elemento che va sempre rifiutato, chi ce la propone guadagnerà anche se noi perdiamo e ci farà partire già con un capitale messito inferiore a quello che noi mettiamo sul tavolo. Quindi, vista l'ampia offerta disponibile, dovremmo rifiutare sempre i prodotti, specie in campo assicurativo, perché in campo assicurativo ci sono queste famigerate commissioni di ingresso, anche qui andrebbero sempre sempre evitate. Più in generale, chi guadagna in modo indipendente dalla dimensione e dai performance dei nostri investimenti è meno interessato a farci investire troppo, troppo spesso e male. L'ultima raccomandazione riguarda la valutazione dell'alternativa. È abbastanza improbabile che la banca tradizionale sotto casa ci offra le migliori opportunità sul mercato. Quando ci occupiamo della nostra finanza personale è bene ricordare e considerare che l'inerzia, la pigrizia, quindi il prendere la prima cosa che abbiamo vicina o i suggerimenti dell'amico assicuratore, hanno un costo che, in virtù della forza dell'interesse composto, può essere un costo anche molto elevato sulle nostre finanze. Per concludere, come facciamo a evitare la trappola del compro ai massimi e vendo ai minimi? Questa rubrica suggerisce un approccio molto molto semplice per sfuggire all'ansia dal tempismo di mercato, riassumibile in poche semplici regole. Io investo quando ho dei soldi che non mi servono all'immediato e dispongo di una riserva di liquidità per gli imprevisti. Scelgo investimenti coerenti con il mio profilo di rischio e con le mie esigenze individuali e li mantengo nel tempo. Disinvesto se e solo quando ho bisogno dei miei soldi per finanziare dei consumi, perché mi servono, oppure perché ho trovato degli investimenti alternativi che credo siano più convenienti rispetto a quelli che ho. In questo modo, nessuna delle nostre decisioni divende direttamente o indirettamente dall'andamento dei mercati, che non siamo in grado di prevedere, e la nostra attenzione si concentra sulla valutazione della posizione individuale, che è la cosa più importante, e sulla selezione di investimenti coerenti con la nostra posizione. Per concludere vi ricordo che il contenuto di podcast e anche della newsletter e dei video non va mai inteso come raccomandazione di investimento o consulenza finanziaria. Se il progetto vi piace potete iscrivervi al canale YouTube di Massimo Famulario e lasciare un segnale di un giudizio, un commento, un'indicazione appunto ai video. Per soluzioni di informazione personalizzata o valutazione gratuite della vostra posizione individuale, potete scrivere a mfamularoblog.com e ricevere dettagli sul servizio di Financial Coach, che è appunto un'attività che è svolto per chi segue il podcast e la newsletter. Vi do appuntamento al prossimo episodio. Arrivederci! Grazie a tutti!